Mi rifaccio una previsione dell'Istat, nel 2034 vivranno in Italia 10 milioni di stranieri, allora quale sarà il modello che seguiremo? Il modello americano della Silicon Valley, dove la forza lavoro, composta per il 60% da personale straniero, partecipa alle dinamiche dell'innovazione e alla produzione della ricchezza? O invece l'Italia somiglierà un po' ai Balcani, dove vivono comunità separate, società parallele che non contribuiscono pariteticamente alla ricchezza nazionale, secondo me la parola chiave è investimento nel capitale umano degli stranieri e naturalmente anche degli italiani.